Carino, piccolo, guarda Castel Sant'Angelo è detto anche il Mausoleo di Adriano ed è un monumento sulla sponda destra del Tevere ed è di fronte al Ponce Elius, che è l'attuale Ponte Sant'Angelo è vicino al Vaticano e in un rione che viene detto Borgo è collegato allo stato del Vaticano attraverso il corridoio fortificato del Passetto Io ho un nuovo cappello, comprodo all'Hard Rock Quattro, spettacolo, guarda Grazie a tutti. Madonna quanti controlli, no ma non potete capire quanti controlli ci sono oggi, giustamente anche. A parte che è pienissimo di gente, in realtà è uno dei posti che si è più turistico a Roma. Con la sua scalinata di Trinità dei Monti è una delle piazze più famose di Roma ed è verso il nome al Palazzo di Spagna che è la sede dell'ambasciata dello Stato Iberico presso la Santa Sede. Abbiamo preso il tiramisù da pompi, adesso facciamo l'assaggio. Allora si presenta così, questa scatolina apri, in teoria ci dovrebbe essere già un cucchiaino. Pompi è rinomadissimo per il tiramisù, il più famoso in assoluto, però la storia vuole che io in tutte le volte che sono venuta a Roma non l'ho mai provato. Quindi questa volta invece ho necessità proprio di fare questa roba. Allora, in teoria si presenta abbastanza bene, cioè come lo faccio io, tranne che sopra si c'è le scaglie di cioccolato, cosa che io di solito non metto. Io le metto. Tu le metti? Io le metto. E c'era, che gusti c'erano, Franci? Classico. Che è questo che l'avevo preso, poi? Pistacchio c'era? Pistacchio, sì, frutti di bosco c'era anche. Molto buono.